Siamo al Monza Rally Show, tradizionale Kermes di fine stagione, una gara particolare con le macchine da rally che abbiamo usato tutto l'anno con l'assisto del C3. Corriamo in pista, una pista allestita con diverse chicane, anche un salto per andare forte in questo tipo di competizione, in questa gara che si svolge su un fondo, su un tracciato che non è usuale a noi, l'importante è cercare una buona stabilità del mezzo, solitamente sulla nostra Citroen C3 lavoriamo per cercare l'agilità, la reattività, qui all'opposto si cerca di dare stabilità nelle curve ad alta velocità, riuscire a generare quanta più tenuta laterale per poter essere veloci nelle mitiche curve del circuito di Monza. Sicuramente l'obiettivo come al solito è ben figurare, ma visto il taglio della manifestazione anche la parte di divertimento è assicurata.